Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Stanotte ho visto i bambini morire. Gli ho visti vagare scalzi nella notte. E non ho potuto non pensare a quando per farli addormentare ai bambini diciamo che l'uomo nero non esiste. Che è solo un brutto sogno e che nessuno verrà mai a prenderli nel cuore della notte perché noi provvederemo perché non accada. Stanotte ho visto i bambini morire, li ho visti portare via nella striscia del loro stesso sangue. E non ho potuto non pensare a tutte le volte in cui abbiamo tamponato ferite di bambini sul loro ginocchio oppure sulla mano perché sono caduto in bicicletta e guarda papà c'è tanto sangue, non voglio vedere il sangue, i bambini non vogliono mai vedere il sangue. Stanotte ho visto i bambini morire, li ho visti sgozzare nel loro letto e ho pensato a tutte le volte in cui abbiamo cambiato un canale sul televisore perché questo è troppo duro, questo è troppo violento, un bambino non lo può vedere, ancora non sei pronto. Stanotte ho visto i bambini morire e ho pensato che li uccidevano in nome di un Dio che nell'antica lingua sanscrita, la lingua da cui tutto discende. Dio significa luce, significa giorno, significa vita e allora mi sembra un po' assurdo che in nome del Dio del giorno, della luce e della vita si uccida qualcuno che da poco ha visto la vita. Oggi ho visto i bambini morire e mentre li vedevo morire non potevo non pensare alla parola odio. La parola odio che i bambini non conoscono. La scienza ci insegna che i bambini vengono al mondo senza odio. L'odio è una di quelle cose che imparano dopo, la imparano da noi, la imparano dagli adulti. Stanotte ho visto i bambini morire e ho pensato che non è un caso che agli dèi nell'antichità venissero offerti in sacrificio proprio i bambini, i fanciulli. Perché? Perché erano puri, erano intatti, non sapevano odiare. Stanotte ho visto i bambini morire e mentre li guardavo pensavo alla parola violenza che significa testualmente violare, violare l'inviolabile, violare il confine, il confine che abbiamo stabilito in nome della civiltà fra l'umano e l'antiumano. Mentre guardavo i bambini morire non potevo non pensare ai bambini dell'ospedale, ai bambini dell'orfanotrofrio di Varsavia, ai bambini neonati di quel ghetto di Lotz usati come palloni su cui provare a sparare dai nazisti, non potevo non pensare, mentre guardavo i bambini morire, ai 200 bambini che partirono dal ghetto di Roma del 43 e di quei 200 bambini neppure uno è tornato vivo. Infine, stanotte, mentre guardavo i bambini morire, io non potevo non pensare a te, Leonardo da Vinci. Quando hai disegnato l'uomo vitruviano, l'uomo perfetto, misura dell'armonia, misura della bellezza. Ebbene, caro Leonardo, io non riuscivo a non pensare che l'uomo è anche e soprattutto misura dell'orrore. E con tutto che abbiamo sempre paura di quello che sta fuori da noi, della minaccia, dell'insidia, io stasera ciò di cui più ho paura è l'uomo.